Il Ministro ha dato una risposta che francamente mi aspettava, una risposta anche al locutore, ha detto che valuterà e vedrà. Abbiamo comunque fatto presente come il problema non sia tanto in specie quello che è accaduto, che comunque è gravissimo, quanto il messaggio che viene dato al cittadino. In questo governo, il Partito Democratico, insistono a dire che la legittima difesa non deve essere toccata, è il compito dello Stato proteggere il cittadino, quando quasi per miracolo o meglio per un'azione da parte di un cittadino, tre ladri vengono presi in modo solerte dai carabinieri, poi avviene che vengono immediatamente scarcerati, per cui il cittadino cosa deve fare? Chiamare i carabinieri e vedersi il giorno dopo i ladri in giro con il rischio magari di eventuali vendette oppure deve difendersi. Continuiamo a pensare che qualora voglia difendersi dovrebbe essere posto nelle condizioni di poterlo fare senza rischiare, come poi invece avviene una reazione forte e cattiva da parte dallo Stato, che invece quando si tratta di ladri colti in flagrante come in questo caso non c'è stata.